Anche il Sunia, Abruzzo e Molise domani parteciperà alle manifestazioni che si terranno nel nostro paese per quanto riguarda il super bonus e anche gli appalti. Presidente, qual è la situazione per quanto riguarda la nostra regione? Noi scenderemo in piazza proprio perché paradossalmente laddove è necessario effettuare i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico eccetera, e il governo ha deciso per decreto che i poveri e i quartieri popolari non possono usufruire di questi benefici. Quindi noi riteniamo che quest'attacco che il governo aveva già messo in piedi nei confronti degli inquilini, abolendo il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Affitto, credo che vada data una risposta adeguata e noi lo faremo domani scendendo in piazza a fianco dei lavoratori dell'edilizia. Voi chiaramente cercherete sempre un colloquio con il governo, una concertazione? Assolutamente sì, lo stiamo facendo anche a livello regionale. Abbiamo chiesto al Presidente Marsilio, all'assessore competente per quanto riguarda le politiche abitative, al Presidente dell'Anci regionale, un incontro per affrontare il disagio abitativo che anche nella nostra regione rischia tra poco di esplodere. Perché l'aver chiuso il rubinetto del reddito di cittadinanza significa mettere in condizione quelle famiglie, 17.000 persone nella nostra regione, a non poter pagare più l'affitto e quindi questo creerà un disagio enorme. Sulla questione appalti, qual è la posizione del Sunia? Sulla questione appalti, noi affiancheremo i lavoratori dell'edilizia proprio per dire no a questo codice, che più che un codice rappresenta un via libera alla speculazione, al malaffare. Un via libera anche, attenzione, alla qualità di queste imprese che andranno ad effettuare i lavori pubblici, e quindi anche perché no lavori presso le ATER e quindi noi diremo che questa legge non deve passare.